Sbruck Italiano Palla per Devis Che trova ancora Esbrook Esbrook spezza la doppia Riva fino in fondo Sbaglia il reato Procettivo di penetrare sulla linea di fondo Riparte Viena in transizione Esbrook schiaccia la terra per Devis Un giorno offensiva per Roma Con Esbrook che però Va a scippare il pallone A Bisintine Va a schiacciare Un edifico per Soviero Soviero Temo il movimento di compagnie Va da Esbrook Esbrook si arresta Un fazzoletto E va Esbrook Scarica ancora verso 8-7 metri Contro me Va a bloccare Passa bene Esbrook Continuo che era un buon scarico Non si asciuga Attacca ora Milano Con la palla Che viene però Persa malamente E Esbrook in campo aperto Va a schiacciare Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Ancora gioca a due, sbruchendo, libera spazio, con l'amore che guarda il piaffino. Un doratore incredibile. Lontanissimo Esbro, un canestrissimo. Lontanissimo Esbro, un canestrissimo. Lontanissimo Esbro con Esbro, esbro, palleggio, arresto il tiro, segna subisce il fattito, l'allenatore di una squadra che deve rientrare. Fanno otto punti per il prodotto di filo, l'University, Esbro da terra con il passino. Un filo, vada per Esbro che prova un'altra tripla. Fa passare un po' il ritmo. Esbro trova qualche tiro molto difficile. Mai perdetti. Esbro nuovamente perdetti. Esbro si alza con il tiro da tre punti. Tocchi, finta di bloccarlo, si allontana, arriva per piazzare, guanto invece Martinoni sotto il bando. Maledive, dettaglio di Martinoni. Grande rotazione di... L'ennesimo pallone della partita veramente. Ti verrà consegnato ai posteri. Adesso dall'altra parte prova il tiro. E ora è Esbro, va a prendere il centro dell'aria, va a realizzare un canestro. Si chiama tre quarti, attacca l'aria Pollone, chiude bene Esbro. Sulla centrale, tripla. Si chiude bene la difesa di pieda e va a scimpare il pallone Esbro. Il contropiede bianco va a trovare il quadro e porfino. Amante, per Bertetti, attacca l'aria fuori per Canesbro. Ancora tripla contro le mani di Carroll. Esbro, ancora Esbro che prova a prendere il centro dell'aria e con il... RBL, Bertetti col palleggio va a cambiare l'illa. Ancora Esbro che va a rinforzare la spina, alza la tripla, Esbro che... Faccia il tre contro due in contropiede. Di Roma fermata, un onnipresente Esbro che va a seguire il pallone a porfino. Brutto il passaggio di schiena. Salta il passaggio del pilota. Se hai detto di farlo, Esbro. Bertetti. Va da Esbro. Ecco il giro e tiro. Ancora Esbro. Si sente caldo e prova un'altra tripla. Si alza dalla miglia distanza, il suo tiro non va. In basso è controllato da Esbro che prova a mettere il movimento. Non 참 thirds. Che piuttosto da beginning. Buon po' ho visto la pista. 0.8. Termine verso la differenza. Fuori Esbro e fuori da notte. za. Bene. Volete. Torna la bianca che fa il girare per Esbro. Esbro che senza mira, prova la tripla. Allora può ripartire una nuova azione offensiva di Biel Ancora con Kenny Enzbruck Enzbruck in transizione, prova l'attrica Enzbruck con il logo di Borcini Enzbruck si separa da neanche lui, risponde Ancora Biella con Enzbruck Enzbruck si lancia col tiro dalla lunga distanza Terzo quarto in posizione di Biella, Enzbruck va a spezzare i ragazzi, va fino in fondo e analizza Incaesso del Benetti, a sede del movimento dei compagni La palla per Enzbruck che si attrava il tiro da lunga distanza La palla per Enzbruck, che ha una molta soluzione E ora è di Enzbruck a partire e provare a prendere velocità La palla dietro per Devis, che da sotto va a iniziare ad Enzbruck La palla per Enzbruck, che sta succedendo a quello che ha iniziare ad Enzbruck Thomas che prende fuoco e quindi riesce a mettere il tiro sempre per il piede Un po' di spazio, non si alza col tiro da tre E torna dai Enzbruck Enzbruck spezza la doppia, poi va a poggiare i due punti Enzbruck Palla di infante, che rolla bene, va fino in fondo RAPPA Un po' di spazio, mancano 7 secondi L'attacco di Emel è un po' statico In questa circostanza, Enzbruck Pagheremo la cauzione per tutti Mi fisco Poi sparare il sottosegno se mi entrate nella seconda metà di questo ultimo quarto Attacco la villa con Davis che va a rientrare il 3 10 lunghezze Milano sull'84-74 Ora Enfok va a servire Davis Di Miela, Enfok Enfok va a vedere sempre l'aria Scarico per Steven Davis 7-9-6-7 Questa è la palla di Torino Qui la palla viene dottata Dalle mani di Echettino Ha recuperato il prossimo vincito E' molto bene Poi c'è la palla della mola E' spunto Esco il ritaglio Ancora tu segna Ancora esfera E' ancora un po' di neve 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 Esbrock attacca a Rea Con Dalmeda La finta su Dalmeda Esbrock in allontanamento Esbrock 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 spezza da Zubi Poi va a finire il mondo Esbrock Super adattato E' ancora un po' di neve Esbrock In parte Stasera E' ancora un po' di neve Ancora E' ancora un po' di neve Esbrock 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esbrook si alza con il tiro 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 Esbrook si alza con il tiro